Un nuovo capitolo di Terra Amara ci trascina in una storia dove vendetta e giustizia si sfiorano pericolosamente. Kolak, bramoso di vendetta, è pronto a svelare il suo piano oscuro. Ma fino a che punto si spingerà la sua punizione contro Sermin e Betul? Sermin, in cerca disperata di un rifugio, si ritrova davanti alla porta di Zuleia. La domanda sorge spontanea, Zuleia aprirà la sua porta per aiutarla o la lascerà da sola, in mezzo alla strada? Non vediamo l'ora di scoprirlo. A Cukurova, tutti parlano di Betul e del suo amore evidente per Kadir. I residenti, riuniti in angoli di strada, non fanno altro che chiacchierare di come, nonostante i conflitti del passato, una tragedia è stata evitata quando Kolak ha deciso di rinunciare alla violenza. Tahir ci ricorda quanto sia preziosa la pace apparente che ora regna nella loro comunità. Mentre le vite si intrecciano per le strade, ci spostiamo in un luogo dove regna un silenzio carico di tensione, l'ospedale. Qui troviamo Fikret, la sua vita appesa a un filo. Accanto a lui, Zuleia è travolta dal dolore, le sue lacrime chiedono silenziosamente un segno di speranza. Il dottore conferma la gravità della situazione con parole semplici ma pesanti, nessuno si azzarda a operare, data la precarietà delle condizioni di Fikret. Quando sembra che non ci sia più speranza, ecco che arriva una svolta inaspettata. Hakan entra in scena accompagnato da una figura che potrebbe cambiare tutto, il dottor Dupont, un neurochirurgo di fama mondiale. La sua presenza nell'ospedale di Cukurova risveglia l'ottimismo, grazie a Hakan che sembra aver fatto l'impensabile attirando un esperto così rinomato. La reputazione del dottor Dupont porta una ventata di nuove speranze per il recupero di Fikret, e ogni momento è prezioso. Con l'arrivo del dottor Dupont, l'ospedale si anima di speranza. Il dottor Sengis non può celare il suo entusiasmo e, onorato, si dice pronto a lavorare con un professionista del suo calibro. Signor Hakan, come ha fatto a realizzare un miracolo del genere? Domanda, la voce piena di ammirazione. L'entusiasmo si diffonde veloce, raggiungendo anche Zuleya e Lutfi, che sono un misto di gioia e incredulità. Mentre il dottor Sengis e Dupont si allontanano per pianificare l'operazione, si respira un'aria di positività. Lutfi, dopo il primo momento di stupore, ringrazia Hakan. Signor Hakan ha portato speranza in un periodo così difficile. Non so come poterle esprimere la mia gratitudine. Anche Cetin si unisce ai ringraziamenti, con un pizzico di tristezza per la possibile partenza di Hakan da Chukurova. Hakan, pensando al suo addio come a qualcosa di necessario, lascia tutti con un velo di malinconia. Zuleya tenta di convincere Hakan a restare, mostrando quanto sia profondo il loro legame. Ma Hakan è pieno di dubbi e ombre del passato. «Come posso restare, se ogni tuo sguardo verso di me è pieno di sospetti?» dice, con il cuore in conflitto. «Zuleya però è ferma nella sua fiducia, non ho dubbi su di te», risponde, e il loro abbraccio, così intenso, parla più di qualsiasi parola. La promessa di Zuleya di credere in Hakan, nonostante i dubbi e le incertezze che avvolgono la loro relazione, rappresenta una luce di speranza e forza condivisa. Intanto, in una villa isolata, la tensione tra Betul e Kolak è palpabile. Betul, con gli occhi pieni di disperazione, cerca di difendersi dalle accuse che la minacciano. «Non volevo farti del male», dice con voce tremante, spiegando il tragico errore e l'inganno subito da chi le ha venduto il veleno. Kolak, tra rabbia e incredulità, ascolta. Ricorda un amore perduto che avrebbe potuto cambiare i loro destini. «Ti ho offerto tutto», dice con voce oscura, «ma mi hai tradito per un altro». La decisione di Kolak di chiudere Betul nel seminterrato è irreversibile. «Ti aspetta una vita di sofferenze», dichiara, lasciandola alle prese con le proprie azioni. L'azione di Kolak, più che vendetta, sembra un'espressione del suo dolore, un tentativo di trovare giustizia in un mondo dove amore e odio si confondono. La storia si sposta su Sermin, che si dibatte tra preoccupazioni e sospetti. A Ciucurova, si moltiplicano le voci, ma una domanda la tormenta, «Kolak è stato avvelenato?» L'ansia per Betul cresce, temendo il peggio. «Betul, perché non mi hai chiamato?» «Volevo sapere se eri libera», si dispera Sermin, decidendo di andare alla villa di Kolak, un posto che ora sembra più un labirinto di segreti che una casa. Giunta sul posto, l'atmosfera è tesa. Gli uomini di Kolak la accolgono con sguardi che sembrano nascondere inconfessabili verità, annunciandole che il loro capo la attende. La sorpresa di vedere Kolak in carne e ossa le gela il sangue, ribaltando ogni sua aspettativa e paura. Il confronto tra Sermin e Kolak è carico di tensione. «Credevo di essere un'ombra per lei», ironizza Kolak, con un ghigno che non riesce a nascondere il sarcasmo. Sermin, sforzandosi di mantenere la calma, cerca di mascherare il suo sconcerto con scuse poco convincenti. Ma Kolak non è uomo da lasciarsi ingannare, accusa Sermin e Betul di aver tramato alle sue spalle per rubargli la fortuna, un gioco rischioso che ora si rivela un boomerang per loro. Sermin si sente intrappolata quando non riesce a contattare Betul. L'angoscia cresce dentro di lei mentre supplica Kolak di assicurarle la sicurezza della figlia, ma si scontra con l'indifferenza di un uomo che si sente tradito. Con un gesto risoluto, Kolak la caccia via, chiudendo ogni dialogo. Intanto, in ospedale, Cadir si risveglia alla realtà, la sua guarigione e un delicato legame tra il suo passato e il futuro. La prima cosa che chiede è di Betul, il suo pensiero ancora avvolto dai sentimenti per lei. La notizia della sua partenza volontaria lo devasta, una delusione che si somma al dolore della sua convalescenza. Akan, intanto, viene informato dell'incidente di Cadire e, nonostante le accuse di Zuleia, che lo additava come responsabile della morte di Fecheli, è deciso a trovare la verità. Akan, nel bel mezzo del caos, cerca di calmare gli animi. Si rivolge a Zuleia, chiedendole di dare a Cadir il tempo di riprendersi, ricordando l'importanza dell'amicizia che li unisce. Il dramma si infittisce quando Akan si confronta con Cadir, che si confessa devastato dal tradimento di Betul. Credeva in un amore reciproco ma si ritrova solo, abbandonato, con il cuore e i sogni infranti. Scoprire che Betul lo ha lasciato morire per andare da Kolak è una ferita profonda. Sermin, persa in una spirale di disperazione senza l'appoggio di Kolak, va all'ospedale, l'unico posto dove spera di trovare conforto. Lì, rivela a Cadir che Betul è stata lasciata in strada da Kolak, un finale inimmaginabile per la ragazza che una volta aveva conquistato il cuore di Cadir. Questa rivelazione porta Cadir a una dolorosa realtà. Il suo amore per Betul era a senso unico. «Ho dato tutto per lei, ma per lei contavano solo i soldi», confessa Cadir, la voce carica di tristezza. Parla di vendetta, aggiungendo tensione a una situazione già critica, mentre Sermin combatte tra la paura per sua figlia e il disappunto per le circostanze in cui si trova. Nel frattempo Lutfi, straziata dall'angoscia per Fikret, aspetta il risponso dell'operazione. Quando il dottor Dupont emerge con la notizia del successo, è come una luce nel buio per lei. In un impeto di gioia, Lutfi abbraccia Zuleya e Cetin, tutti riconoscenti verso Akan per il suo ruolo nell'arrivo del dottor Dupont. Il capitolo si conclude con una scena intensa all'ombra della villa Yaman. Sermin, sopraffatta dalla paura e dalla disperazione, si ritrova di fronte alla minaccia letale di Kolak, che vuole punirla per averlo sfidato pubblicamente. Le sue dichiarazioni alla stampa, un disperato tentativo di ritrovare sua figlia, si trasformano in una sentenza che la costringe alla fuga, con Kolak che lancia i suoi uomini alle sue calcagna come predatori in caccia. Nel suo momento più oscuro, con tutte le strade sembrano sbarrate, Sermin intravede una luce di speranza in Zuleya, un faro di salvezza nella tempesta che la circonda. La scelta di cercare rifugio presso Zuleya è un gesto di estrema disperazione, ma anche un atto di fiducia verso l'unica persona che può offrirle protezione dall'inferno scatenato da Kolak. La villa Yaman diventa il palcoscenico di uno scontro carico di drammi e passioni, dove il bisogno di protezione di Sermin si scontra con l'implacabile sete di vendetta di Kolak. «Uscirai da quella casa, ti troverò, non importa dove ti nasconderai», grida Kolak, la sua voce carica di una minaccia che tesse una tela di paura. Ma Zuleya si pone come baluardo tra Sermin e il pericolo, con una forza inaspettata che sorprende tutti, anche Kolak. La determinazione di Zuleya rappresenta un punto di svolta, trasformando la sua abitazione in un bastione inviolabile. «Questa è casa mia, e tu non puoi portare via nessuno da qui», dichiara, sfidando la rabbia di Kolak con una fermezza che non ammette replica. Kolak, costretto a un confronto diretto, estrae la sua arma in un ultimo tentativo di intimidazione. Ma non è solo contro di loro. Gli alleati di Zuleya emergono dalle ombre, formando una barriera impenetrabile intorno a Kolak, rovesciando completamente le sorti della battaglia. Superato in numero e sconfitto dal coraggio di Zuleya, Kolak è costretto a battere in ritirata, un atto che segna la sua umiliante resa. «È ora di andartene», Kolak, dice Zuleya con autorità, la sua voce echeggiando definitivamente. L'abbandono della villa da parte di Kolak e dei suoi uomini non segna solo la conclusione di un inseguimento crudele, ma anche la vittoria della solidarietà e del coraggio contro l'ingiustizia. I corridoi della villa Yaman risuonano di tensione. Zuleya, l'architetto della salvezza di Sermin, mostra segni di preoccupazione. Sermin, a sua volta, si rivela devastata per la scomparsa della figlia Betul. «Non so se Betul sia ancora tra noi», confessa con voce tremante, mentre la paura le stringe il cuore. Ma Zuleya, come un faro di speranza in mezzo alla tempesta, la rassicura, «Non perderti d'animo, la ritroveremo». Intanto, nella quiete della convalescenza, Kadir si trova di fronte a Vaap e l'atmosfera si carica di tensione. Vaap gli rivela che Betul è stata rapita da Kolak, ma Kadir, con un freddo distacco, risponde, «Ormai non mi interessa più di lei». Vaap rimane colpito da questa inattesa indifferenza. Nell'ufficio aziendale della Yaman, l'aria è densa di urgenza. La segretaria si aggira frenetica, cercando Akan, l'uomo che sembra sempre avere un piano. Quando scopre che è irreperibile, si rivolge a Zuleya, informandola che Akan sta monitorando attentamente le mosse di Kolak. Ed è Kabus a rivelare l'orribile verità, Betul è prigioniera nel seminterrato della villa di Kolak. Con il tempo che corre inesorabile, Zuleya decide di affrontare il pericolo a testa alta e si dirige verso la villa di Kolak, determinata a mettere fine a questo gioco mortale. Con una risolutezza che le è propria, Zuleya informa Sermin che Betul è viva, sebbene rinchiusa nel buio del seminterrato. Le lacrime di Sermin sono un fiume in piena che scorre tra sollievo e paura, ma la speranza di riabbracciare sua figlia brilla nei suoi occhi. La missione di salvataggio si mette in moto grazie a Zuleya che, con l'audacia di una vera leader, guida i suoi uomini verso la villa di Kolak. La loro superiorità numerica si rivela decisiva, e conquistano la villa con una precisione che lascia poco spazio alle sorprese. Nel silenzio della villa, il grido di Betul risuona, e nonostante gli sforzi dei fedeli di Kolak, la volontà di Zuleya trionfa. La scena del salvataggio è toccante, Zuleya, con un misto di forza e delicatezza, libera Betul, che è allo stesso tempo vulnerabile e resiliente. «Vai, non perdere tempo», incita Zuleya, spingendo Betul verso la libertà che le è stata negata. Betul, ancora scossa ma ora al sicuro, comprende il peso dell'atto coraggioso di Zuleya. Il ritorno alla villa Yaman è come il rientro di un eroe dopo una lunga battaglia. Betul fa il suo ingresso trionfale accanto a Zuleya, entrambe circondate da un'aura di vittoria. L'abbraccio tra madre e figlia è un quadro di gioia pura. «Sono viva grazie a Zuleya», afferma Betul, «il suo ringraziamento è sincero e profondo». Sermin, con una gratitudine che va oltre le parole, celebra l'eroismo di Zuleya. La notizia dell'impresa eroica si diffonde rapidamente a Cukurova. Gaffur, con la sua solita esuberanza, racconta l'atto coraggioso di Zuleya. La comunità si raduna per ascoltare, i volti illuminati dall'ammirazione per il coraggio e la generosità della loro signora. Mentre l'eco dell'azione eroica risuona tra le mura della villa Yaman, Betul, ancora scossa dall'esperienza, riflette su come potrà mai ripagare Zuleya per il suo gesto di inestimabile valore. Zuleya affronta le parole di Sermin con una grazia che non ammette ipocrisia. «Non c'è bisogno di ringraziamenti», dice, «ma la tensione si infittisce quando Sermin inizia a parlare con voce melenza, cercando di conquistare la sua benevolenza con parole di rimorso per il passato». Betul entra nella recita, manifestando un finto pentimento. Sermin esalta Zuleya, dicendole che merita il cognome Yaman per il suo coraggio. Ma Zuleya non si lascia ingannare dalle loro parole. «Non ho dimenticato, e non è detto che vi perdonerò», risponde con occhi che vedono oltre le apparenze. «State attente, avverte prima di allontanarsi, non ci sarò sempre per voi». Nella quiete della villa, l'atmosfera è carica di tensioni nascoste. Betul, il volto contratto dall'irritazione, si apre con Sermin, svelando un rancore profondo verso Zuleya. Il risentimento di Betul è tangibile, come un veleno che le scorre nelle vene. Sermin, con un tono che trascina con sé il peso delle loro circostanze, le ricorda che erano senza alternative. Il tormento interiore di Betul esplode quando dichiara di aver desiderato la morte piuttosto che dover avere un debito di vita a Zuleya. Questa confessione mette a nudo la profondità del suo astio. Sermin, con una nota di tristezza nella voce, le fa notare la loro impotenza contro Zuleya, una realtà che Betul è riluttante ad accettare. La storia si sposta su Kolak, furente per il tradimento e il fallimento dei suoi uomini. Il clima si surriscalda quando uno di loro ammette di averlo tradito, confessando che è stato Vap a informare del loro piano. Vap, accecato dal terrore, smentisce tutto, ma è chiaro che la paura lo sta divorando. In una fuga disperata, si lancia in una corsa per la vita, inseguito dai suoi ex alleati con intenzioni omicide. La scena si sposta su Vap che, scampato per poco alla morte, si rifugia da suo fratello Kadir. Con voce spezzata dall'angoscia, Vap si affida a Kadir, rivelando che Kolak vuole ucciderlo. Kadir, con un senso di fratellanza indomito, si impegna a proteggerlo, mostrando che anche nel cuore più duro può nascere la solidarietà. Betul, guidando attraverso il velo delle sue lacrime, raggiunge Kadir. Si precipita verso di lui come un naufrago che anela la terra ferma, e Kadir diventa il suo salvatore nell'occhio del ciclone emotivo che la travolge. Lei gli confida il suo dolore, e Kadir, con uno sguardo che nasconde segreti inesplorati, le promette che il suo tormento è terminato. Il destino, però, è un maestro di sorprese amare. Kadir, in un impeto incontrollato, la afferra per il collo in un silenzio assordante. Betul si dibatte, cercando ossigeno e libertà, finché Kadir, in un guizzo di coscienza, rilascia la sua presa e abbassa l'arma che aveva estratto. Un pentimento improvviso lo allontana, lasciando Betul a raccogliere i frammenti della sua dignità spezzata. Betul e Sermin, avvertendo la loro vulnerabilità senza la protezione che una volta avevano, decidono di cercare rifugio presso Zuleia. Portano con sé il suo preferito, un gesto semplice ma carico di significato. Zuleia, visibilmente commossa e sorpresa, accetta la loro gratitudine. Betul, con un cuore gonfio di riconoscenza, ringrazia Zuleia, riconoscendo pubblicamente il debito di vita che ha nei suoi confronti. Quando le amiche di Zuleia si uniscono a loro, la loro ammirazione per il suo coraggio è evidente. Zuleia, sempre umile, minimizza il suo ruolo, ma Sermin interviene, riconoscendo che solo Zuleia avrebbe potuto compiere un'impresa così eroica. La quiete segue la partenza delle ospiti, lasciando Zuleia e Lutfi a riflettere sulle recenti vicende. Zuleia confida il suo dubbio, Sermin e Betul sono soltanto abili attrici. Questo sospetto getta un'ombra sui loro gesti apparentemente genuini. Il focus si sposta sulla villa di Betul, dove la tensione tra madre e figlia è alta. Sermin, agitata, suggerisce a Betul di fuggire e ricominciare, di ricostruire la sua vita e la sua carriera legale altrove. Ma Betul rivela una verità sconcertante, la sua carriera di avvocatessa era una finzione. Sermin, sopraffatta dal rimorso per i sogni non realizzati, si confronta con la realtà infranta dei suoi desideri per Betul. La quiete nella piccola villa viene infranta dall'arrivo improvviso di Vaap e degli uomini di Kadir. Con fermezza glaciale, annunciano lo sfratto di Sermin e Betul, reclamando la villa come proprietà di Kadir. I domestici di Villa Yaman assistono, disarmati e incapaci di intervenire, a questa inaspettata svolta degli eventi. Sermin, cercando di rimanere composta, chiede di poter raccogliere i propri effetti personali, ma Vaap la respinge con freddezza. Betul, in un impeto di coraggio, si interpone tra Vaap e sua madre, una scintilla di sfida nei suoi occhi. La tensione si intensifica quando Vaap estrae un'arma e la punta contro Betul, il suo dito sul grilletto preme minaccioso. La scena è sull'orlo di trasformarsi in una tragedia quando Rashid interviene con coraggio, affrontando Vaap e facendo da scudo a Betul. Gaffur, con una calma sovrana, media la situazione e riesce a disinnescare la tensione, evitando che il peggio si compia. Con la situazione ormai sotto controllo, Vaap si ritira, lasciando dietro di sé una nube densa di paura e incertezza. Fuori dalla villa, Kadir osserva il dramma svolgersi. Vede Sermine e Betul, ora private del loro rifugio, sopraffatte dal dolore per la loro perdita. Kadir, il cuore pesante per la delusione e il dolore, sfoga la sua amarezza. Pensavo che il tuo amore fosse sincero, mia cara. Mi hai ferito più in profondità di quanto avrei mai potuto immaginare, dice, la voce carica di un dispiacere che si traduce in un disincanto. Poi, con un gesto che parla di una malinconia profonda, si allontana. Il futuro di Sermine e Betul è incerto e aperto a infinite possibilità. La loro storia è un libro le cui pagine sono ancora da scrivere. Volete scoprire cosa accadrà loro? Lasciateci un commento per condividere la vostra curiosità e il vostro interesse per il prosieguo di questa avventura. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche, così non vi perderete nessuna delle vicende che attendono Sermine e Betul in Terra Amara. Escrivete, sì, voglio il video per il continuo.